Seagraph 2017, andiamo al Seagraph 2017. Per la prima volta quando lavoro a Blender Institute, Seagraph ha accettato il nostro paper Beyond Cosmos Laundromat, Blender Open Source Studio Pipeline, quindi un paper sulla nostra pipeline completamente open source, e quindi avremo l'onore e la possibilità di presentarlo davanti alla community del Seagraph. Di cosa parla questo paper? Prima di tutto non è proprio un paper scientifico, è semplicemente il formato richiesto per la selezione. Il nostro paper parla di come abbiamo creato la nostra pipeline per produrre film di animazione a partire da Cosmos Laundromat, quindi le novità tecniche introdotte in Blender al tempo più gli strumenti all'esterno di Blender con il quale è possibile seguire una produzione, quindi il nostro sistema di render management, il nostro sistema di production tracking per seguire la produzione, e come la combinazione di tutte queste tecnologie open source rendano possibile creare film, l'animazione di qualità, che è una cosa non molto comune. Grandi studi di animazione di solito rilasciano solo piccole parti delle loro pipeline, piccole componenti, buona parte rimane interna, soprattutto la pipeline, cioè come i contenuti passino da un software all'altro durante la produzione, mentre invece noi rendiamo tutto questo open source. Ma questo Seagraph, cos'è Seagraph? Ok, Seagraph è una delle più grandi conferenze nel settore della computer grafica, del cinema d'animazione e degli effetti visivi nel mondo. Sono cinque giorni di presentazioni di paper, di ricerche, di demo, di sessioni sull'educazione, screening di film, di nuovi film, di film che sono usciti negli anni passati. Insomma, un mega, il comic con dei nerd della computer grafica. Seagraph è iniziato nel 1974, storicamente è un posto dove si vede l'innovazione, dove si vede il futuro della computer grafica. Quest'anno Seagraph è a Los Angeles dal 30 luglio al 3 agosto. Come negli anni passati, Blender sarà a Seagraph con uno stand, quindi un posto dove rappresentare Blender in questo mega spazio espositivo, di fianco a The Foundry, Maxon, Autodesk, Intel, Nvidia. Di fianco alle più grandi aziende di computer grafica. Avere uno stand a Seagraph è sempre molto bello perché permette di incontrare la community locale, la community internazionale. Chiunque visiti Seagraph e usa Blender può passare a trovarci e a salutare ed è un bellissimo statement per un software, un progetto piccolo, indipendente, open source come Blender, per essere lì di fianco a questi giganti dell'industria del 3D. Volevo condividere questa bella notizia, vi farò sapere più dettagli in futuro quando saranno disponibili. Qualcuno di voi è mai stato a Seagraph? Avete programmi di andare quest'anno? Fatemi sapere, ci vediamo lì. Ciao! Grazie a tutti!